come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande il pompiere il calciatore il pasta e cera il poliziotto il pizzaiolo perché voglio costruire la casa dei miei sogni perché mi piace inguaggiare salvo le persone che mi piace e lei è martina che ti piace di lei gli occhi mi piacciono le sue scarpe le sue mani le seguità sulle capelli tutto vera bene la vivina si stanzerei e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 e perché no eh perché lei è femmina non lo posso mai dare perché le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono contro la violenza sì se anche le donne non si potrebbero toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori e perché sono come dalle un bacino e la posso dare sulla bocca o sulla guancia? on l'ultima 6 aste sanno della 0 come prestige